Come state? Ben ritrovati? Buona giornata, buon martedì, buona vigilia di Champions League ragazzi. Vi invito come sempre a lasciare un like, se vi va, a commentare, così condividiamo il punto di vista e a iscrivervi qui se non avete ancora fatto. Attivate la campanella, ci conto. Se siete cuori rossoneri, siete al posto giusto, al momento giusto. Un benvenuto a chi si iscriverà in questa posizione, in questo momento, in questo video. Poi verrò a vedere anche i nomi. Ragazzi, vi ricordo anche, o meglio vi consiglio, se vi va di scaricare gratuitamente l'app di OneFootball, vi metto qui sotto il link. L'app con tutte le notizie esclusive, live, calciomercato, gli highlights del Milan da vedere ovunque voi siate e sponsor della Serie A, ma soprattutto del Milan. Un motivo in più per sostenere che ci sostiene, è gratuita, davvero ne vale la pena. Qui sotto il link nella descrizione, basta cliccare se volete tornare, poi io vi aspetto. Allora ragazzi, oggi rispondo alla consueta rubrica Milano lo risponde. E in questo video vi do anche una notizia molto interessante. Molto, molto interessante. Ripeto, molto, molto, molto interessante. Parto da Matteo che mi dice, intanto grazie per i complimenti, non pensi che quando abbiamo passato un periodo negativo ci siano state troppe accuse a fioli, quando invece ci hanno sempre insegnato in questi anni a recuperare la squadra in modo egregio? Allora, io non lo so, forse c'è stato troppo o poco, effettivamente il Milan a generale ha fatto male, 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 male. Secondo me ci sta ovviamente il credito, però se uno studente ha sempre preso voti belli e fa tre o quattro verifiche brutte, non è che lì si dà il voto bello perché prima andava bene, ci sta che venga preso il voto brutto, però poi se fa bene si torna a valutare con obiettività. Per te, mi chiede Rosario, se rimarrà con questo modulo o si tornerà il 4-2-3-1? In tal caso non pensi ci sia abbondanza a destra, Messia, Salemac, Escalabria, Desti, Florenzi e Penuri a sinistra, il Soloteo? Diciamo anche Balloturé? Sì, 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 assolutamente sì, sono d'accordo con te che a sinistra, pensando il prossimo anno, bisogna fare cose. Io dico sempre che il modulo è filosofia, come mi insegnava un vecchio maestro. Detto questo, secondo me la proposta di gioco deve migliorare e con il 4-2-3-1 secondo me può migliorare. È chiaro che si può, insomma, anche alternare i moduli, però io auspico a regime che si possa giocare con il 4-2-3-1 con comunque la possibilità di impiegare gli stessi interpreti difensivi aggiungendo te un po' più basso, i due mediani aiutati magari da un centrocampista in avanti, che secondo me è la soluzione, due più un centrocampista comunque, due esterni alla punta. Questa è la mia idea, poi per il prossimo anno dipenderà molto anche dal discorso Leao. L'anno prossimo, visto il cambio di pelle di giocatori che non meritano neanche di entrare a Milanello, riusciremo a vedere una squadra con qualche italiano in più e meno stranieri? Questo è Luca, domande interessanti, sicuramente in estate sarà un mercato molto dinamico con diverse operazioni in uscita e di conseguenza anche in entrata. Milan che si è un po' scottato con la questione liste, Sportiello intanto lo portiamo a casa, un giocatore italiano. Io credo che qualcosa in questo senso si possa fare, collegandoci alla domanda di prima, il Milan vorrebbe prendere un terzino italiano. Tra i nomi c'è anche Valeri che tra l'altro è un parametro a zero, ma mi dicono che su di lui c'è un po' di bagarre con tanti club interessati, visto che sta facendo molto bene. Io credo che qualche italiano in più ci sarà, il problema è che gli italiani comunque ti costano. Vedi il Sassuolo, ha giocatori italiani interessanti, ma alla fine vanno all'estero perché chiede troppo, o alla Juve perché, vabbè. Propendo, mi scrive Carlo, per la cessione di Leao, con il ricavato potremmo puntare ad Aiemi, che sarebbe ideale per il ruolo di trequartista a sinistro, ti piacerebbe. Timo Tiwea al posto di Messias. Allora, diciamo che ci può stare, però non credo che sia facile andare a prelevarlo, sinceramente. Giocatore che sta facendo bene, parlo di Aiemi del Dortmund, scadenza 2027, è vero che poi se hai in mano i soldi di Leao puoi fare operazioni. Quest'anno, volevo vedere lo score, lui ha fatto due gol in Champions, tre in Premier, più tre assist. Giocatore giovanissimo di 21 anni, secondo me si può andare a puntare magari qualche profilo diverso. Insomma, ci sono stati diversi contatti a gennaio con Sam Ximena e il suo agente, che mi sembra un profilo magari un po' più pronto, visto che ci siamo scottati sul non essere pronto di decetelare. Per quanto riguarda Timo Tiwea, lui nei giorni scorsi si è proposto, tra l'altro ha una reinvenzione tattica, perché ha fatto anche il terzino, sta facendo diversi ruoli nel Lille, nasce punta, però viene impiegato anche, ripeto, sia sinistra, dietro, avanti, destra. È un discreto, buono giocatore, ha 23 anni, sicuramente il fascino di essere figlio di George può spostare. Vediamo, vediamo. Secondo me ha parlato non casualmente lui. Cioè si è proposto, ma dalle parole sembrava quasi che ci fosse comunque qualche possibilità. Al posto di Messias, secondo me bisogna prendere un giocatore più forte di Timo Tiwea, sinceramente. Poi, sul tema stadio, personalmente dice Johnny, mi intriga molto, speriamo venga su un bel progetto. Quando inizieranno i lavori, quando potrebbero finire? Risolviamo prima l'impasse burocratica e poi vediamo. Io credo che magari, ecco, oggi si può poetizzare di iniziare i lavori nel 2025. Poi, la società vuole investire sull'istituto per Rebic, quanto basterebbe promuovere in prima squadra Ciacatraore e investire i soldi per una punta sera, tipo Oilund, eccetera. Guarda, su Ciacatraore sfondi una porta non aperta di più. Altrove, i diciottenni giocano. Noi siamo una squadra in Italia che punta sui giovani, Ciacatraore puntiamoci. Tra l'altro sto cercando di raccogliere, grazie al nostro Filippo Galoppi di Stile Milan, che poi farà un video, informazioni sui giovani migliori della primavera e sulla loro situazione contrattuale. Attenzione, perché Ciacatraore non ha ancora rinnovato il contratto, anche se mi dicono che Beppe Riso non dovrebbe fare un dispetto al Milan, ma attenzione. Nasti in Serie B sta facendo bene, in realtà aveva due gol con il Cosenza contro la Regina, ma prima aveva fatto molta fatica. Vediamo, speriamo, però insomma deve fare molto di più. Perché al posto di Zagnolo non prendiamo Orsolini? Non è mai rotto, 34 partite minime all'anno, da 6 all'8 gol più assist, è così scarso. Matteo, io non vedo differenza sul pratico, cioè a livello numerico sta facendo meglio. La società Milan vede in Zagnolo un valore assoluto superiore a quello del puro ottimo Orsolini, che io ad esempio paragono a Politano, che nel Napoli comunque ha fatto cose rispettabilissime. Carlo, letto dell'interesse del Milan per Loftus-Cic, giocatore che a mio avviso potrebbe avere sulla Serie A lo stesso impatto di Anguissa. Sei d'accordo? Carlo, hai letto, attenzione perché prima a parlare di Loftus-Cic in orbita a Milan. Siamo stati noi di Milanello tra novembre e dicembre, anche un paio di settimane fa. La scorsa settimana il De Telegrag ha confermato. La nostra anticipazione, secondo me, è forte. Forte, forte, forte potrebbe essere il sostituto non preso di che sì, visto che Vranchs, avete capito, purtroppo non verrà confermato stando così le cose. E sono d'accordo con te, potrebbe avere un impatto importante. Ci sarà la volontà del Milan in estate di investire tutti i soldi che si guadagneranno dalle cessioni e ci sarà sempre il tetto di 40-50. No, 40-45-50 con la Champions. Se si fa player trading, si aggiunge, ovviamente. Come Valina non crea una squadra new gen, credo i vantaggi di far giocare i giovani in un vero campionato siano notevoli, ma che vada a livelli. È vero, c'è anche questo aspetto, se ne era parlato, ma non è stato poi portato avanti. Vendere Calabria, dare la fascia a un vero capitano? Ma no, secondo me sei un po' ingeneroso. Io dico che comunque ci si può alternare. Io sono molto intrigato se si torna a giocare a quattro da Calulu. Nulla a togliere a Calabria, che è preziosissimo e che ha attraversato anche momenti a livello fisico complicati. Capitano è chiaro che poi nell'immaginifico c'è Tonali, che viene visto come un bel capitano. Non ho citato Reteghi, è vero, l'altro giorno, una dimenticanza. Beppe, attaccante del Tigre, che va nella shortlist di numeri 9 per la prossima stagione. A QS West ci vado ancora, ma ogni tanto vengo a fare la cronaca qui su Milanello e va il mio collega. Duvan Zapato, Federico, ho già risposto in un messaggio, lo vedo un po' bollitino. Se si vende Rebic, ti puoi spostare Origic sulla sinistra, così da avere in punta giro il Bomber e forse Ibero solo loro due. Ma Origi, ragazzi, non è il problema di dove lo metti. È il problema che non sta dando risposte. Questo non va bene. Su Ciacatrò Re, se hai pazienza qualche giorno dovremmo avere una risposta alla tua domanda sulla situazione contrattuale, caro Emilio. Mi dicono che non dovrebbe creare problemi il suo agente, però teniamo l'attenzione. Ma, ripeto, avremo informazioni di prima mano nei prossimi giorni. Il Milan non ha sbagliato DJ Davids per quanto riguarda lo stadio, perché comunque, ovviamente, deve curare i propri interessi. Tra l'altro, l'Inter aveva fermato un precordo con Assago qualche anno fa, insomma, o con Rozzano, non ricordo nemmeno. E comunque, siamo nel giusto. La difesa 3, per supponare la panchina di Calabria, o Davidino ha speranza di riprendere il risposto da titolare, magari a centrocampo? No. Davide Calabria nella difesa 3 fa fatica. Può essere un braccetto di destra, ma con squadre più abbordabili. Secondo me, lui è un terzino. Quello è. Anche come quarto di centrocampo non è il suo ruolo. Quindi, bisogna tornare a 4, anche per questo, ma secondo me, si alterneranno anche i moduli. è bello avere diversi abiti da indossare, no? Chiesa per la fascia destra, no? Costa troppo. Marlon Gomez, Dario è un profilo che il Milan sta seguendo, ha già avuto diversi contatti, eh? Qualcuno dice assomiglia a Dudley, nelle movenze qualcosa lo ricorda. Colomoni, Retteghi, no, la coppiata a Severio, no, 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 assolutamente. Tra poco vi do la bella notizia che abbiamo scoperto. Anche Alessandro dice la squadra B come la Juve perché non la facciamo. Ci sono tante cose da fare, una è anche questa, eh? Cosa ne pensi quello che ha detto Caluro sullo stadio? In poche parole avrebbe detto spero di vederlo. Ma cosa c'è sotto? C'è sotto semplicemente la volontà di dire svegliatevi, istituzioni facciamo questo stadio visto che ne parlano da anni. Sei tranquillo sul discorso mercato. Anche User propone Orsolini, che non è un top ma è un ottimo giocatore. Poi a fine anno avremo bisogno di un vero bomber che pensi potremmo prendere. Abbiamo fatto un video dedicato. Pianceva molto e piace ancora Colomuani. Ci sono profili come quello di Retechi che gioca nel Tigre che però si deve adattare qui. Attenzione molto a Scamacca. Si propone i cardi. Insomma, ci sono una serie di idee e anche un paio di profili della Liga che vengono seguiti. Non bisogna sbagliarlo. Il favorito per sostituire Leao non c'è un vero e proprio favorito. Ci sono due o tre profili. Uno, l'ho detto, è Sam Eximen. Leao, credo che andrà via Ottavio. Io vorrei sapere dove trovo Rozzano sulla cartina per lo stadio Inter. La battuta di Marco. Firmino si è proposto ma ha 31 anni. Quindi ha senso solo al posto di Orighi se fai uscire Orighi. Mina ha bisogno di un attaccante. L'obiettivo è tra i 20 e 25 anni. Firmino ha senso solo se tagli i ponti con Orighi e fai plus Valenze e ti puoi portare a casa Firmino però ha quell'ingaggio 4 milioni e mezzo barra 5 con il decreto crescita. La notizia che abbiamo raccolto cari amici di Milanello ci riguarda appunto sabato 25 febbraio degli osservatori rossoneri erano a vedere la partita tra Lipsia ed Eintracht Francoforte vinta 2 a 1 per i padroni di casa dell'Ipsia in particolare per seguire un giocatore un paio anche se uno lo conoscono molto bene lo conoscevano prima ancora che approdasse all'Eintracht cioè Colomuani uno di questi appunto è Colomuani che in quella partita però non ha fatto un gran che bene 90 minuti giocati ha tentato 6 dribbling ne ha azzeccato soltanto 1 67% passaggi riusciti 2 cross tentati e sbagliati 3 contrasti a terra vinti su 12 2 liarei vinti 0 su 4 21 palle perse su 39 toki quindi più di una su due ha giocato male e e ha fatto un tiro in porto uno fuori non ha fatto un gran che bene però risulta che il Milan sia andato a seguire ripeto più che Colomuani che già conosce Daichi Kamada che ha 26 anni è giapponese ne avevamo già parlato e adesso abbiamo anche delle conferme importanti giocatore dell'Eintracht che ha il contratto in scadenza giugno ci sono diversi club su di lui in quella partita ripeto davanti l'osservatore del Milan ha fatto 79 minuti 2 dribbling riusciti su 2 quindi 100% 37 tocchi 75% passaggi riusciti un passaggio chiave 3 contrasti vinti su 9 ha perso 10 palle e ha fatto un contrasto hanno fatto anche lui 3 dribbling non una gran partita in generale dell'Eintracht giocatore che è un po' in lizza qualora partisse e non venisse confermato il il nostro Brian Diaz c'è sullo sfondo sempre Uar sul quale però attenzione oltre che la Roma c'è finito anche il Napoli che potrebbe cambiare qualcosa Kamada è un giocatore un centrocampista trequartista ha fatto tanti ruoli in carriera ripeto 26 anni è alto 184 ha fatto anche un buonissimo mondiale e è intrigante secondo me è un bel profilo sapete che mi piace molto anche Uar lui in Bundesliga tedesca ha fatto quest'anno 21 partite 7 gol 5 assist in Champions League 7 partite 3 gol Coppa tedesca 3 partite 3 gol quindi sta facendo molto bene lo scorso anno aveva fatto 4 gole 3 assist in Bundesliga 5 gole 1 assist in Europa League l'anno prima 5 gole 13 assist in Bundesliga giocatore davvero interessante che ha fatto il trequartista il centrocampista più arretrato alla destra alla sinistra all'Aintracht 164 partite 37 gol e 31 assist questa è la notizia osservatori del Milan a vedere l'Ipsia Aintracht soprattutto per Kamada Colomuani è un giocatore che viene conosciuto ormai da diverso tempo ditemi che cosa ne pensate di tutto iscrivetevi qui se l'avete ancora fatto un benvenuto vengo a vedere i nomi ai nuovi iscritti commentate qui se siete nuovi mi raccomando lasciate un bel like e commentate ciao ragazzi a presto